Per fare nuove amicizie, prova a entrare in un club o in una società sportiva, dato che il modo migliore per conoscere nuovi amici è trovare persone con interessi simili ai tuoi. In alternativa, puoi fare volontariato e incontrare persone appassionate quanto te alle stesse cause. Se questi consigli ti costringono a uscire troppo dalla tua zona di comfort, prova a parlare con le persone che vedi tutti i giorni, come il tuo compagno di banco o la cassiera del supermercato dove vai solitamente a fare la spesa. Puoi anche provare a sederti a un tavolo diverso durante la pausa pranzo. È normale sentirsi nervosi quando si tratta di parlare con persone che non conosciamo. Sorridi, tieni la schiena dritta e mantieni il contatto visivo in modo da sembrare amichevole. Dopo aver parlato un paio di volte con qualcuno, prova a organizzare un'uscita, invitandolo da qualche parte, un evento sportivo, un concerto o qualcos'altro. Quando inizierete a frequentarvi, diventerete amici in breve tempo.